Vincitrice della medaglia di bronzo, Soraya Paladin a Recipolini! Seconda e vincitrice della medaglia d'argento, Giorgia Bronzini, l'Iguala Iperica! Giorgia Bronzini viene premiata da Carlo Nellatepa, sindaco di Ibrela! Prima, medaglia d'oro e campionessa d'Italia, Elisa Londo-Morghini! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La prima volta in Italia viene consegnata da Giovanni Mia Donati, assessore allo sport della regione di moto. La prima volta in Italia viene consegnata dalla vicepresidente dell'associazione Alessandra Cappellotto. La prima volta in Italia viene consegnata dalla vicepresidente dell'associazione Alessandra Cappellotto. Grazie. 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 Grazie.